Una donna dalle indubbie qualità e competenze, che con il suo gruppo, confluito in USUD, ha dato la possibilità di allargare un programma strategico che avevamo pensato per la città, allargarlo e migliorarlo. E devo dire che se in democrazia sono importantissimi gli elettori e i cittadini, beh, oggi, con questa giunta, noi raggiungiamo l'80% dei cittadini di Casarazzo.